Sintesi sulle invalidita e ille e citudini delle ordinazioni e consacrazioni in tempo Cinquecentunesimo Sede Vacante papale Non diciamo che voi abbiate perso l'ipotesta dell'ordine. Diciamo che mai l'avete ricevuta. Il Papa Innocenzo il 19 di marzo dell'anno 416 riconobbe soltanto ai Vescovi il diritto di confermare in virtù dell'abitudine ecclesiastica e dei passaggi citati negli Atti degli Apostoli. Questo decreto è il primo documento pontificio che proibisce ai sacerdoti il Ministero della confermazione. Si attribuisce al Papa San Silvestre l'avere riservato ai Vescovi il privilegio di consacrare il Crisma e consegnare con esso ai battezzati. Nella sessione settimo del Concilio di Trento si insegna che, soltanto il Vescovo e il Ministro ordinario della confermazione, e nella sessione ventitreesimo dello stesso Concilio si anatemizza a coloro che affermano che il potere che ha il Vescovo di confermare è comune ai presbiteri. Dichiarando anche che costoro non hanno nessuna potesta per amministrare questo sacramento. San Pio X nella sua lettera apostolica, ex quo, citata nel Canone 782 per il Cardinale Pietro Gasparri, nella quale ci insegna che è, ugualmente inammissibile l'idea di che la confermazione amministrata per qualsiasi sacerdote può tenersi per valida, absonum est valida ma bendam esse confirmationem a quovis presbitero collatam. Gia che il sacerdote possiede il potere di confermare in virtù della sua ordinazione. Ma soltanto lo farà validamente con il permesso del Papa. E soltanto gli si è permesso ai Vescovi per decisione di esso. E se un presbitero senza permesso del Papa conferma questo sacramento sarà invalido. Tuttavia il Papa può alzare questa proibizione a gruppi di sacerdoti. O a tutti. O proibirlo come è proibita ai latini. Canone 782. A eccezione di quello decretato nelle Atte Apostolice Sedis 38.1946 pagina 359 ss. E le Atte Apostolice Sedis 40.1948 pagina 40 della nuova disciplina imposta da Sua santità Pio XII. O proibirla e permetterla allo stesso gruppo come fece San Gregorio Magno. Con i presbiteri sardi. Che gli fu proibita per seguire la norma romana e poco dopo decise che Era meglio mantenerla. San Gregorio distinse la disciplina della Chiesa romana che proibiva Confermare ai presbiteri Dall'abitudine vigente nella Chiesa calaritana Che concedeva agli stessi questa facoltà Sua santita Benedetto XIV insegna che la validita dei Greci scismatici per confermare Sacramento È perché così l'hanno deciso il Papa Per Apostolice Sedis Dispensationem Lo stesso poteva succedere con il sacramento dell'ordine proibito al presbitero Ossia che il presbitero non può ordinare A meno che il Papa lo permetta Canone 951 Come per esempio Bonifacio IX nella Bolla Sacrae Religionis dell'1 secondo 1400 DZU 1145 Concesse all'abate di Santa Orsola in Inghilterra La possibilità di ordinare diaconi e presbiteri Ordini maggiori Rinnovata poi da Martino V nella Bolla Gerant Ad Vos del 6 undicesimo 1427 DZU 1290 Innocenzo VIII Bolla Exposcit Tue Devotionis del 9 IV 1489 DZU 1435 Concesse al generale dei Cistercensi la capacità di ordinare sub diaconi e Diaconi Sua santita Innocenzo IV nel suo Apparatus delle Decretali di Gregorio IX pubblicato verso L'anno 1245 Dice che il Papa non soltanto può privare al Vescovo del potere per ordinare e al Sacerdote di consacrare validamente Ma anche di poter privare a qualsiasi persona del potere di battezzare O come dice il Canone 16 del Concilio di Nicea Se qualcuno osasse di sottrarre a uno che appartiene a un'altra e ordinarlo nella sua chiesa Senza il consenso del proprio Vescovo dell'altra tra il quale Clero era iscritto prima di Partire L'ordinazione deve essere nulla E come sua santita Leone XIII lascia chiarito in Apostolice Curae Gia che ottenere ordini Nullite significa lo stesso che per atto nullo e senza effetto Ossia invalido Come la stessa parola e il parlare comune richiede Questo è specialmente chiaro quando la parola è usata nella stessa maniera in referenza alle Ordini come anche in referenza ai Benefici ecclesiastici Nullite enim obtinuisse ordines idem est atque il rito a citi un nulloc effectu Videlicit invalide Ut ipsamone eius vocis notatio et consuetudo sermonis Praesertim cum idem pari modo affirmetur de ordinibus quod de beneficis ecclesiasticis Questo dice la Costituzione Apostolica Vacantes Apostolice Sedis di sua santita il Papa Pio XII. 1945. Atta Apostolice Sedis 1946.38.65. Usando lo stesso linguaggio che la bolla infallibile di sua santita Leone XIII. Apostolice Curae Le leggi date dai Romani Pontefici non possono essere corrette o cambiate dalla riunione di Cardinali della Chiesa Romana La sede, trovandosi vacante Neanche si può togliere o aggiungere niente Neanche può farsi dispensazione alcuna sulle leggi Stesse o qualcuna parte di esse Questo è molto evidente nelle Costituzioni Pontifice, su L'elezione del Romano Pontefice M.S.S.I. produce o per caso S.I. tenta qualcosa contrario a questo precetto Lo dichiariamo per nostra suprema autorità nullo Legis a Romanis Pontificibus Latae Per coetum Cardinalium Romane Ecclesie Ipsa vacante Corrigi Veli immutari nullo modo possunt Nec quiquam e i esse detrai sivea di di Veli dispensari quomodolibet circa i PSAS seu aliquam e arum partem Quod potissimum valet de constitutionibus pontificis Ad ordinandum negozium electionis Romani Pontificis Latis Immo si quid contra hoc Prascriptum fieri vel attentari forte contigerit Ipsum suprema nostra auctoritate nullum et irritum declaramus Parentesi quadra aperta punto 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 parentesi quadra chiusa Mentre la sede apostolica è vacante Che il Sacro Collegio Cardinalizio non abbia nessun potere né giurisdizione in ciò che Appartiene al Papa in vita Ma che tutto rimanga riservato per il futuro Papa E così decretiamo che qualsiasi potere o giurisdizione che appartiene al Papa in vita A meno Che sia espressamente permesso in questa nostra Costituzione La stessa riunione di Cardinali possa avere preso per esercizio E nulla è senza effetto Sedis apostolice vaccescione durante Sacrum Collegium Cardinalium inis Quae ad Pontificem Maximum dum vivere pertineba Nullam Omnino potestatem aut iurisdictionem abeat Neque gratiam Neque justitiam facendi Aut factam per Pontificem mortum executioni demandandi Seddea omnia futuro Pontifici reservare teneatur Itaque irritum et inane esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis ad Romanum Dum vivit Pontificem pertinentis Nisi quatenus in ac nostra Costituzione expresse Permittatur Coetus ipse cardinalium dux erit Idem vacante ecclesia Exercendum Ordiniamo anche che il Sacro Collegio Cardinalizio non possa disporre delle leggi della Sede apostolica e della Chiesa romana nella forma che desideri Neanche potrà tentare di disvirtuare le leggi della stessa Né direttamente né indirettamente attraverso attraverso di una specie di connivenza O per mezzo del dissimulo di delitti perpetrati contro le stesse leggi Gia sia dopo la morte del Pontefice o in tempo di vacante Malgrado, possa sembrare che si tenti Di fatto Vogliamo che debba proteggere e difendere contro lo stesso argomento di tutti gli Uomini Aetem praecipimus Nesse cardinalium collegium de Iuribus sedis apostolice romanec Ecclesie quomo dolibet disponere valeat Neque inquopiam Iuribus eiusdem sive directe detrai rattente Sive indirecte per connivencie specem Seu per dissimulationem facinorum adversus idem Iura Etiam post obitum pontificis seu vacationis tempore Perpetratorum Attentare videatur Immo volumus ut omnium virium contentione idem custodire et defendere debit Se qualcuno tentasse il contrario in relazione con queste cose Per qualsiasi autorita Sapendolo o no Il tentativo è nullo e senza effetto Immo si quid contra oc Prascriptum fie rivela attentari forte contigerit Ipsum suprema nostra auctoritate nullum et irritum declaramus Quindi che non si permetta a nessuno debilitare questa pagina della nostra Costituzione Ordine vincolante Avvertenza Proibizione Precetto e volonta O che vada contro essa per un'impresa imprudente Se in più qualcuno osi tentare questo Che sappia che incorrera per questo all'ira di Dio Onnipotente e dei benedetti Apostoli Pietro E Paolo Nulli ergo hominum liceat Anc paginam nostrae constitutionis Ordinationis Abrogationis Mandati Inodationis Admonitionis Inhibitionis Praesepti Voluntatis infringere Ve lei ausu temerario contraire Si quis autem hoc attentare praesum pserit Indignationem omnipotentis dei Et beatorum petri et pauli apostolorum eius seno verit incursurum Se voi dite e assicurate per attiva e per passiva che la setta conciliare non è lei chiesa Cattolica Ed è una setta non cattolica che si è separata dal cattolicesimo Assolutamente tutti i vescovi cattolici Gia siano consacrati valida e lecitamente per sua santita san pio decimo Sua santita benedetto quindicesimo Sua santita pio undicesimo o per sua santita pio dodicesimo che si aderirono alla setta conciliare Lasciarono ipso facto di essere vescovi cattolici Canone 188.4 Cum ex apostolatus officio Per abbandono pubblico della fede cattolica Perdendo ipso facto i loro incarichi ecclesiastici e la loro giurisdizione Ma non il carattere dell'ordine perché indelebile D'altro lato Se dicono e assicurano per attiva e per passiva che sua santita pio dodicesimo è L'ultimo vero papa Che lascio legato nei cieli che il potere di giurisdizione soltanto arriva Al vescovo per mezzo del papa Mistici corporis Christi Ad sinarum gentem Apostolorum principis sepulcrum Dice che la disciplina vigente per la consacrazione dei vescovi cattolici è riservata Esclusivamente al papa e che nessun vescovo può procedere a essa senza mandato apostolico certo Canone 953 E che chi consacra senza permesso del papa è scomunicato lui e i suoi consacrati Atta apostolice sedis 4 3 1 9 5 1 9 di aprile pp 217 218 E sospesi ipso facto Canone 2370 E Dice che nei periodi di interregno Costituzione apostolica vacantis apostolice sedis Atta Apostolice sedis 38 1946 N 3 pp 65 99 Sotto sua suprema autorita Che è quella di nostro signore Gesù Cristo Tutto il potere e giurisdizione del papa in vita non può essere usato né esercitato Per il contrario sarà nullo e senza effetto Ossia invalido Come disse sua santita leone tredicesimo nella sua bolla infallibile apostolice cura e del 13 di Settembre del 1896 E la disciplina vigente sulle consacrazioni episcopali ricade ed è Riservata esclusivamente al papa in vita Canone 953 E negli interregni è proibito non sotto illecitudine Ma sotto nullita Ossia invalidita Come insegno sua santita innocenzo i vii nel suo apparatus Super quinque libri decretali dove dice che il papa mediante una costituzione può proibire che Un vescovo emetta ordini Incluso che battezzi validamente E dice che i sacramenti conferiti per tali persone non sono validi In effetto non saranno validi Sic Et quidem satis bene videntur dicere in e o Quod dicant Quod possunt facere constitutions summi pontifaisis superprimisi Ete is factis Si constituiti ur quod non valint sacramenta a talibus collata Non vale bunt Mi puo lei spiegare come ci puo essere nel suo garage nato nell'anno 1981 dalle mani di un Arcivescovo Di bulla regia Arcivescovato Che gli diede montini nell'anno 1968 E che per arte di magia non gli si applichi il canone 188.4 nella cum ex apostolatus ufficio di Sua Santita Paolo IV Non si applichino le discipline delle congregazioni episcopali Canone Canone 953 Atta apostolice sedis 43 1951 PP 217-218 E quella Degli interregni Atta apostolice sedis 38 1946 1946 N.3 P.P. 65-99 Per non citare altre illegalita che Gia sono state citate decine di volte E si ovvia cio che disse sua Santita Leone XIII nella sua bolla infallibile apostolice curae Ottenere ordini nulle significa lo stesso che per un atto nullo e senza effetto Cioè invalido Come la stessa parola e il parlare comune richiedono Nullite enim obtinuisse ordines idem est atque irrito aciti unul hoc effectu Videlicet invalide Ut ipsamone eius vocis notatio et consuetudo sermonis Praesertim cum idem pari modo affirmetur de ordinibus quod de beneficis ecclesiasticis E lo stesso diciamo di Lefebvre Può dirmi com'è possibile che nel suo garage ci siano vescovi validi Con giurisdizione e cattolici Per cio che sappiamo i sacerdoti non possono consacrare vescovi Ed è proibito sub poen nullitatis usurpare i poteri e la giurisdizione del Papa durante gli Interregni dall'anno 1945 e la disciplina vigente delle consacrazioni epistiche Episcopali sono riservate esclusivamente al Papa il leader del suo garage non pote mai essere Stato consacrato vescovo sub poen nullitatis e molto meno come cattolico e un presbitero Che perse il suo ufficio nel 1965 e nel 1981 credette che un arcivescovo montignano ultramodernista che con anteriorità aveva Consacrato Consacrato Cinque vescovi allo scisma vetero cattolico e a cinque co nazionali del Palmare di Troia Che Perse il suo ufficio nel 1965 Come l'arcivescovo titolare Roncalliano di Sinnada di Frigia Lo, fece, vescovo cattolico 23 anni dopo la morte di sua Santita, Pio XII e 16 anni dopo della Gran Apostasia E dicono che 64 anni dopo della morte di sua Santita, Pio XII e 41 anni dopo dell'infamia del suo garage Che dice che i laici mascherati con mitra possono consacrare vescovi cattolici e ordinare Sacerdoti cattolici Voi seguite con la favola chimerica di che sono validi Leciti e che hanno giurisdizione per assolvere i peccati E sono la santa chiesa cattolica apostolica e romana Niente di più lontano dalla rialta Voi non soltanto non avete mai ricevuto la potesta di giurisdizione e gia che non abbiamo Papa Dal 9 ottobre del 1958 Mistici corporis Christi Ad sinarum gentem Ad apostolorum principis Ma neanche avete ricevuto la potesta dell'ordine sub poen Nullitatis in interregno Questo significa invalidita Vacantis apostolice sedis Apostolice curae Canone 953 A.S. 43 1951 P.P. 217-218 Per il quale Come poco Le sue ordinazioni sarebbero dubbiose Per alcuni Per altri è ovvio che sono invalide E al conferire i sacramenti mai è permesso adottare un Corso probabile di azione in referenza alla validita abbandonando il corso più sicuro Il contrario fu condannato specificamente dal Papa Innocenzo XI nel decreto del Sant'Uffizio Del 2 di marzo dell'anno 1679 Per tutto c'io Voi non è che siate illeciti Cioè intrusi Che lo sanno e per questo sempre ricalcano che sono validi per così ingannare ai semplici Sono privi di tutta giurisdizione per governare il greggio di Nostro Signore Gesù Cristo Ma anche sono invalidi perché il leader del suo garage mai fu consacrato vescovo nel 1981 Sub Poen nullitatis durante l'interregno che dite nel quale ci troviamo E portano più di 40 anni dissimulando consacrazioni episcopali e ordinazioni Cosi come sacramenti Etc Etc Le comunico che se il canone 188.4 e la cum ex apostolatus officio non si applica ad un solo Soggetto Non si applica a nessuno e lei non può difendere legalmente la sede vacante E per altro lato se lei difende che La sede è vacante Lei deve attenersi alla costituzione apostolica per gli interregni vigenti Quella dell'anno 1945 E questa è inclusa nelle atte apostoliche Nella N43 E sua santita Pio X nella sua costituzione apostolica promulgandi del 29 settembre del 1908 Lascio detto che tutta promulgazione delle leggi ecclesiastiche generali si realizza Esclusivamente mediante l'inserzione della legge nella pubblicazione ufficiale della santa Sede Atta apostolice sedis E che codeste leggi entrano in vigenza e sono vincolanti per Tutti i membri della santa chiesa cattolica Apostolica e romana Cosa che lei e il suo garage non fanno Fatto che ci porta a domandarci se voi siete membri Che rimane evidente che no Gia che si sono inventati una nuova disciplina per funzionare come Un nuovo magistero Come se potessero Che non possono Eccettuando l'inganno Se lei dice che è cattolico Deve la sua obbedienza a sua santita Pio XII e non agli intrusi Quando un cattolico coopera nello scisma con la sua condotta È impossibile che non assenta per questo stesso fatto al peccato di scisma E che non riconosca e tratti all'intruso come un sacerdote legittimo 26 di settembre dell'anno 1791 Sua santità Pio VI Perché se voi potete saltare tutto ciò che desiderano Può saltarlo chi sia Come occorre in questi tempi dell'anomia Evidentemente anche saltano fuori dall'arca di salvazione Dato che non tutti i peccati Anche gravi Separano per la sua stessa natura all'uomo dal corpo della chiesa Come lo fa il scisma L'eresia e l'apostasia Mistici corporis Christi del 29 di giugno dell'anno 1943 Sua santita Pio XII Per concludere Ricordiamo a sua santita Benedetto XIV nell'anno 1757 Consideriamo superfluo dimostrare con molte parole quanto grave e orrendo crimine commettono Coloro che Non investito dall'ordine sacerdotale Osi celebrare il sacrificio della Messa Gia che le ragioni per le quali si considera giustamente un crimine questo sacrilegio che deve Essere detestato e castigato con una rigorosa applicazione di sanzioni Grazie a tutti Grazie a tutti